Oggi parliamo di lingua algherese insegnata nelle scuole. L'Omnium Cultural ha portato un documento sia al presidente del Consiglio regionale Michele Paes sia al sindaco di Alghero Mario Conoci per avere delle risposte dalle istituzioni. Qual è la situazione? Ma in tanti tanti hanno detto che si tratta dell'insegnamento dell'Algherese a rinsedere le scuole. L'Omnium Cultural ha realizzato un progetto al passato per Deuanzi, che era il progetto di Giovan Palomba, e ha portato l'Algherese a rinsedere le scuole, della scuola dell'infanzia, finché alla scuola media. Ha realizzato i materiali didattici, che è a CESH, perciò voglio dire che hanno già un'esperienza da molti degli insegnamenti dell'Algherese alle scuole. Dito questo, tende a dire che l'anno passato, il giurio dell'anno passato, si sarà approvata una nuova lei del Consiglio regionale Sardegna, che riguarda la politica linguistica delle lingue minoritari e a rinsedere le scuole, anche gli algheresi. Ci sono cinque articoli della lei che parlano degli insegnamenti della lingua a rinsedere le scuole. Però per diventare operativa la lei, per concretizzare gli insegnamenti del català e dell'Algher, ma non è che la giunta regionale approvi un raguramento, diversi raguramenti, in verità. Perciò, siccome è passato un anno, e ancora hanno tante notizie, abbiamo presentato, degli anni passati, al Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, e al Sindicato dell'Algherio, Mario Conucci, una letra, un tiglio da mani, che faccio un'obra di sensibilizzazione nei confronti della Presidenza della Giunta regionale, perché questi regolamenti vengono approvati. Questo è importantissimo, perché, come sappiamo, l'insegnamento delle scuole è fondamentale, se vogliamo promuovere tutta l'Algherese, soprattutto tra le nuove generazioni, le nuove, i giovani. e questo, penso che sia fondamentale. Esperemo, siamo garantiti, che ci sarà un impegno, non seppi si, razzisci, razzisci, ma tendo un contatto, un'ancontra, ma il Presidente della Giunta Solinas, e speriamo che ci sia un'unica risposta concreta.